Nessuno paga mai? Ma nessuno paga? Pagano solo i pensionati desodati o i disoccupati? Ma voglio dire, facciamo accolire responsabilità e quanto mi piace, Mirta, mi dispiace solo una cosa, glielo dico francamente, io provengo da 68, libertario, eccetera, io sto diventando un manettaro e questa è la cosa che più mi dispiace. Io, tre filetti, sto diventando uno che inneggia le manette quando succedono questi fatti. Ecco, questo è il terrammalone.